Ben trovato, grazie di essere qui. C'è anche la musichetta che avevamo preparato. Aspetti che le do subito il giraslide, perché lei ha un contributo. E le volevo chiedere solo, poi la lascio sul palco. Lei si può mettere dove vuole, col verde va avanti, il rosso va indietro, si metta lì. Avrà ascoltato con piacere le parole di Letizia Moratti, che diceva la casa come primo luogo di cura. La lascio. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Grazie per me, è un onore essere qui. Ringrazio il Presidente Azzi, ringrazio, saluto, il vostro Presidente di Federcasse, Augusto Dell'Erba, con cui siedo nel Consiglio di Presidenza di Conf Cooperative, Sergio Gatti, il vostro Direttore, con cui dal 2011 cominciamo proprio agli esordi della Federazione Sanità a parlare in Conf Cooperative di come anche tramite le banche di credito cooperativo si poteva portare sul territorio una risposta alle persone. Poi un mio saluto personale a Francesco Liberati, perché la BCC di Roma è stata sempre vicina alle esigenze delle nostre realtà. Noi facevamo, mi ricordo un tempo, eravamo un fatturato ridicolo. La BCC Roma ci è stata accanto, ha permesso la crescita della cooperativa che rappresento. Oggi siamo circa 3.400 operatori sanitari e anche quando abbiamo con Gemelli, immaginato Gemelli a casa, di cui poi parlerà anche Marco Elefanti, la BCC Roma ha subito appoggiato e supportato questa iniziativa per dire che noi abbiamo sperimentato il rapporto di vicinanza che le BCC hanno. Mi chiedeva cosa penso di ciò che ha detto la Presidente Moratti. Ho due sentimenti. Noi maschietti abbiamo i due lobby, io sono un medico quindi cercherò di non tediarvi con le cose, abbiamo due lobby che non sono connessi, le femminucce sono più connesse, hanno un corpo calloso in mezzo. Ho un lobo che dice, vedi, finalmente si parla di queste cose. L'altro lobo che dice, sono 40 anni che si parla di queste cose. Quindi cerchiamo anche che poi queste cose diventino realtà. perché io ho provato a descrivere in un breve percorso, anche perché il tempo passa, il motivo per cui sono contento da una parte e scontento dall'altra. Forse nella prima slide si chiarisce che cosa. Abbiamo sentito più volte dire il virus ci ha preso di sorpresa. Non è vero, nel senso che, aspetti sono andato, eccolo qua. Non è vero. Non è vero perché innanzitutto il nostro sistema, faccio una breve premessa, cambia nel 78. Vi ricordate Moro, i tre papi, un anno particolare. Quindi noi cambiamo da sistema mutualistico, si parla moltissimo oggi di mutue, a sistema universale, quindi sposiamo lo schema beverage. Da quel tempo l'OMS dice, attenti cari paesi, perché la partita non sarà la cuzie, quindi la risposta dell'ospedale, ma sarà la cronicità. Cioè ciò che dovete mettere in campo sull'assistenza primaria, 78-43 anni fa. Solo l'anno scorso, prima del Covid, l'OMS lancia dei warning a livello generale, dice, attenti, si prevede una pandemia influenzale. Noi fra un po' assisteremo a quella che si chiama deriva influenzale. Che porterà un nuovo virus, che colpirà di nuovo tutti, come fu per la Spagnola. Quindi l'OMS aveva allertato, in più aveva detto, attenti che avete una fragilità ai paesi, dei sistemi di assistenza primaria. All'Italia in particolare, diceva, attenti alle patologie croniche non trasmissibili. Quanti sono gli italiani con patologie croniche? 14 milioni. La patologia cronica non è solo dell'anziano. Un bambino con il diabete è un malato cronico che ha bisogno di assistenza territoriale. In più, c'era l'esitazione vaccinale individuata dall'OMS come rischio del nostro paese, abbiamo visto, e oggi io ritengo che stiamo facendo bene. Siamo un paese guida in questo senso. Quindi, che è ognuno libero di pensare quello che vuole, ma noi siamo un paese che sta guidando in questo momento. Diceva l'OMS l'anno scorso, attenti, avete un problema di invecchiamento della popolazione. Abbiamo una piramide demografica rovesciata. Non c'è natalità. Roma 1,17 figli per nucleo familiare. Avete una disomogeneità regionale. Pensate a questo paese. La Lombardia è sicuramente una regione privilegiata. Pensate alle regioni del sud. Prima del virus c'era questa situazione. Noi avevamo, sulla popolazione non autosufficiente, 2 milioni e 900 mila anziani, 51% dei quali non assistiti, né dal punto di vista sanitario né sociale, che hanno sviluppato un badantato che oggi misura oltre 2 milioni di badanti, di cui più di un milione in nero, altro che Green Pass. Quindi abbiamo favorito con il trasferimento monetario, quindi passando pensioni, la logica per cui la famiglia si è adattata, ha cercato soluzioni, ma noi come sistema non ne abbiamo date. Quindi c'era già prima del Covid tutto questo. Noi abbiamo una debolezza strutturale, paese incredibile. Noi sull'Adi siamo al 2,9% di ultra 65 anni assistiti. Pensate che l'Olanda è al 14%. Il mio professore mi mandò a studiare i sistemi olandesi. Sulle residenze abbiamo 14,5 posti letto ogni 1.000 abitanti, la Germania ne ha 70 sistemi mutualistici. Quindi noi dobbiamo ancora guadagnarci, fare tanta strada per arrivare a un benchmark europeo. E di tutto questo viviamo un gradiente, una disomogeneità regionale pazzesca, dove in Lombardia abbiamo 24, 25 posti per 1.000 abitanti. Al sud si salvi chi può. E quindi tutto questo oggi merita assolutamente una risposta. Qual è la proposta di Conf Cooperative? Vedete, io vivo veramente con orgoglio l'appartenenza a Conf Cooperative, perché per tempo, dal 2010, noi iniziamo a dire questo. Cioè a dire fondamentalmente, mettiamo insieme le forze. Abbiamo cooperative sociosanitarie come la nostra, con anche milioni di fatturato, oltre i cento, con in realtà professionisti attirati che sono sul territorio. Mettiamo insieme le cooperative dei medici, di medicina generale, cioè mettiamole a... Ho usato un termine bellissimo, prossimità, che sa molto di quel farsi prossimo di cui anche le nostre radici sono comunque, dovrebbero essere, sono, anzi dico sono, assolutamente imperniate. Per cui noi diciamo alle cooperative dei medici, e in Lombardia avete le più grandi cooperative mediche, perché poi la Regione li ha costretti anche a mettersi in cooperativa, quindi rendersi visibili, dare quella continuità, se non trovo il mio medico trovo un altro, con una visibilità sul territorio. Abbiamo la farmacia dei servizi, anche in Lombardia abbiamo CEF, che è la più grande cooperativa di farmacisti, dove cosa diciamo? Diciamo qual è il luogo che ogni anziano conosce, ogni persona fragile conosce nel proprio quartiere, la farmacia. Dove entra una persona che ha un bisogno? Dalla farmacia. E allora realizzare, aggiungendo specialistiche e diagnostica, con progetti di ospedalizzazione domiciliare, guardate che Gemelli a casa è un unicum adesso, nel panorama nazionale, integrare un sistema che dica, caro amico, tu dalla farmacia più vicina a casa tua entri nel sistema, la medicina generale valuta i tuoi bisogni, le realtà erogatori, accreditati, non più per gara d'appalto, anche questa cosa quest'anno l'abbiamo finalmente debellata, arrivano a casa e finalmente si costruisce un sistema. In tutto questo c'è un rischio, il rischio del cosiddetto capitale speculativo, diceva benissimo il Presidente Azzi. Io non ho più, sono tempestato da fondi di investimento che cercano di comprare il ramo d'azienda della nostra cooperativa. Non accadrà mai, perché noi non abbandoneremo mai la strada della mutualità. Però c'è questo rischio perché i fondi messi a disposizione dal PNRR e tutto ciò di cui si parla hanno attirato persone che mi dicono guarda io ho bisogno di un IRR, voi sapete cosa intendo, superiore al 20%, ma vattelo a cercare da un'altra parte. Noi abbiamo bisogno invece di rispondere ai bisogni delle persone e io penso che anche il sistema, lo penso dal 2011 quando con Sergio cominciavamo a parlarne, il sistema anche delle banche di credito cooperativo e delle mutue che stanno nascendo possono rappresentare quella rete di prossimità che in maniera sussidiaria, perché c'è un altro rischio, c'è il rischio dello statalismo strisciante, per cui io ho l'impressione che una parte politica abbia come idea assumo e ci penso io, ma se non sei riuscito fino adesso, lascia fare, secondo i dettami dell'articolo 118 della Costituzione, la sussidiarietà, cioè a chi è più prossimo do un incarico. Io ho stato programma e controllo e lascio a questa società di questo Paese, la società civile di questo Paese, il compito di dare le risposte. Grazie. Prego, stia qui, si accomodi pure che poi la tratteniamo.